Stefano, hai aperto la piazza con un tiro bellissimo, un 5 praticamente perfetto e siete riusciti nuovamente a riportare la lancia al quartiere? Eh sì, era un po' l'ora, no? Perché comunque Sant'Andrea è un quartiere abitato a vincere e mancava da due anni. Quindi abbiamo fatto un'ulteriore impresa perché abbiamo fatto 10 e una volta ci abbiamo anche rimesso. Una lancia spezzata l'avevamo presa, questa invece è andata come deve andare e niente, ora me la voglio godere un po'. Lo dicevi prima come battuta, l'ha sottolineato anche Enrico, ma quant'è la soddisfazione di riuscire a ottenere questi risultati quando uno viene già indicato come troppo vecchio? Eh vabbè, è maggiore, no? Mi si fa capire che ogni tanto ci siamo, no? Speriamo di esserci comunque a questi livelli perché i giostatori, al di là della ruota di oggi che è stata un pochino più sottotono, ma sono dei fenomeni. Quindi essendo i vecchiarelli bisogna lavorare di più, prepararsi più fisicamente perché comunque è diventato quasi un lavoro. Quindi se non sei perfetto questa giornata qui non la tiri fuori. Quindi a una certa età pesa un po' di più che quando iniziai la metà. Quindi devi fare con più lavoro, più determinazione. Chiudiamo con una battuta, un messaggio da lanciare a tutta la gente che era sotto la terrazza ad aspettarvi. Ma che si libertano ora, no?